Tensione tra Mosca e l'Unione Europea dopo la richiesta di liberazione dell'oppositore Navalny. La Russia espelle tre diplomatici europei. Il corrispondente Sergio Paini. Nessun paese ha ancora proposto ufficialmente nuove sanzioni. Una decisione verrà presa a marzo in un vertice con tutti i 27 ministri. Ma a Giuseppe Borrell, in visita ufficiale a Mosca, è bastato accennare al caso Navalny per scatenare la controoffensiva russa. Espulsi tre diplomatici di Germania, Polonia e Svezia perché avevano partecipato il 23 gennaio alle manifestazioni non autorizzate contro l'arresto dell'oppositore. Immediate le proteste anche da parte del presidente francese Macron e della cancelliera tedesca Merkel, che convoca l'ambasciatore russo e minaccia ripercussioni, anche se è ormai chiaro che la Germania non vuole rinunciare al progetto Nord Stream 2, il raddoppio del gasdotto che passa sotto il Mar Baltico. L'Unione Europea è un partner inaffidabile, almeno in questa fase, il rimprovero di Sergei Lavrov all'alto rappresentante per la politica estera europea. Mosca non accetta lezioni da nessuno e su Navalny l'approccio solidaristico dell'Europa è ridicolo. Così il capo della diplomazia russa ha chiuso la porta alle richieste occidentali per un rilascio del dissidente, che intanto, tre giorni dopo la prima condanna, è tornato in aula. Un altro processo, poi rinviato di una settimana, per diffamazione nei confronti di un veterano della Seconda Guerra Mondiale. In Myanmar, migliaia di persone...